Sì, sì, sì. Eh, è un virus, è un virus. La mosca di zanzaro? Lo so. Pensiamo al mio aereo. Eh, io sappiamo. Oh, non credo Fukulai, ma portata da qualcuno che è andato in vacanza. No, aspetta, io lo so. Forse una volta. Eh, sì. Io sappiamo. Oddio, non mi viene in mente. Sì, no. No, credo di no. No, non è curabile. Si può curare, però mantiene dei sintomi, so, per tutta la vita. Sì, sì, c'è una. Facciamoci. Sì, sì, è sicuro. Sì, ma dici. La malaria, sì, è un vaccino. Eh, non so, sì. Dovrebbe esserci un vaccino, sì. Ma anche se molte persone interiorespondono, non possono rispondere le nostre domani. Malaria non è nemmeno di farci dal nostro modo, come pensiamo. È un tema del fatto che la ultima case in Italia è ricordata al 1997. Ma, in effetti, la eradizione è stata risposta 37 anni prima il dà, durante le 60. Passiamoci in tempo, avremmo pensare che è stato un paese nel nostro paese dal XVIII secolo d.C. In Roma, che è un paese di Swamp, Malaria era presenta, ma è stato contrastato dal lavoro idraulico e dalla reclamazione di soil. La guerra punica era un periodo fertile per la malattia, perché molte persone abbandonavano il paese, lasciando grandi, noncultivati. Allora, in l'imperial periodo, l'illnessa era solo diffusi among the lower social classes. During the 5th century, the epidemic diffused in a large part of Italy, even in Rome, where the Tibera flooded constantly. Between the 6th and the 7th century, the illness diffusi even in the areas of Ferrara, Ravenna, the Po Delta and the Venetian Lagoon. It became a problem not only for the lower classes. In fact, the illness probably stopped the troop of Federico I Barbarossa in 1167, preventing him from conquering some territories. In total, 9,000 soldiers died. Since the 12th century, the upper classes started retiring in more healthy areas, to avoid the intermittent fevers. In the north of Italy, between the 9th and 16th century, the diffusion of malaria greatly decreased, because of new reclamation projects and rice fields recalimentation, which have been perfected until 17,500. after the modifications of the river post basin, for many centuries, the territories in the north of Bologna have been subject to floods. In 1604, the Pope had ordered the deviation of the river Reno towards the sea, but in doing so, the situation had been compromised. The tributaries being unable to converge into the sea flooded the Pianura Padana, originating numerous swamps. The situation continued throughout the 17th century and even in early 18th century. Only after the birth of the Italian kingdom could the population reach a complete understanding of the disease, and the institutions incurred stricter monitoring. Following the 1901 act that made reporting of malaric fever as compulsory, in Bologna, 3,552 cases were reported. During the First World War, an epidemic outbreak occurred in abandoned malaric areas, for instance, Pianura Padena. Around 1925, the southeast territories of this area were subjected to a remediation action, which involved a huge economic and human effort. In 15 years, malaria almost completely disappeared from all the Italian country. of the animal incident. The suicide system is also the most likely seen,